Vi informo sui casi positivi di oggi e sono veramente indignato perché abbiamo un caso positivo in più, ma questo caso deve far riflettere. Me ne assumo le responsabilità, si parla di un medico, un medico che risulterebbe positivo, dove anche un familiare risulta positivo, e un medico che addirittura, secondo sanitari, non si sarebbe attenuto ai protocolli previsti. E questa la denuncia attraverso il suo profilo Facebook del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, una denuncia forte, importante, secondo la quale un medico sarebbe risultato positivo e non avrebbe appunto rispettato i protocolli. Per questo il sindaco di Cortona ha chiesto subito un'indagine da parte della ASL Toscana Sud-Est e questa è la risposta. È già in fase di istruttoria la denuncia del sindaco di Cortona, io sono convinto che chi esercita la professione di medico, come chi esercita una professione sanitaria, è legato alla comunità attraverso un vincolo di natura non solo giuridica ma anche etica e morale, per cui mi aspetto che si tratti solo di un fraintendimento. Ove ciò non fosse, saremo evidentemente molto duri nell'adozione dei provvedimenti del caso. Passatemi anche lo sfogo in qualità di sindaco, visto che siamo veramente impegnati tutto il giorno e non solo per risolvere il problema, per dare una mano a tutti. Per questo voglio ringraziare tutti i sanitari esposti giornalmente, gli infermieri, i medici, gli operatori del 118, delle residenze assistite, tutti gli operatori sanitari che veramente stanno svolgendo un lavoro grandioso. Se poi qualcuno ha sbagliato, come appunto indicato nel video, dovrà rispondere alle autorità preposte. Tuttavia, ripeto, la situazione rimane monitorata, stiamo calmi, non usciamo di casa, dateci una mano. Grazie. Nel pomeriggio è poi arrivata anche una nota scritta della ASL Toscana Sud-Est che vi leggiamo testualmente. In riferimento a quanto diffuso sui social, l'azienda sanitaria comunica di aver effettuato un'indagine interna dalla quale emerge che nessun medico positivo ha continuato a lavorare conoscendo la sua positività. Il medico attaccato sui social ha lavorato per l'ultima volta il 20 di marzo. La positività del familiare è stata accertata il 23 di marzo. Il medico non era già più al lavoro ed è rimasto in isolamento e è stata comunque effettuata l'indagine epidemiologica per conto del medico competente. I contatti stretti a cui è stato finora effettuato il tampone sono risultati negativi.